Oramai si può parlare sicuramente di terza ondata qui in Abruzzo, comunque nell'area metropolitana, perché i numeri sono veramente tanti. Crescono i contagi da Covid-19 nella nostra regione, soprattutto nell'area metropolitana Pescara-Chieti. Ieri oltre 600 positivi, come non accadeva da tre mesi, con la variante inglese che continua ad incidere pesantemente anche a causa di alcune condizioni favorevoli al virus, come il freddo e soprattutto comportamenti non appropriati da parte dei più giovani. Problema varianti. Vogliamo un attimo spiegare, dottor Fassi, cosa sono queste varianti e perché incidono così pesantemente? Allora, questo è un virus, un virus poi RNA, perché i virus RNA mutano ancora di più rispetto a quelli a DNA. È un virus che muta parecchio e quindi per migliorare la specie, perché è quella la finalità ultima di queste mutazioni. Ci sono delle mutazioni singole che vengono chiamate mutazioni. Quando però le mutazioni, cioè virus mutante, diventano importanti nel numero, come nel caso della variante inglese, che parliamo di 14 mutazioni a livello della porzione di genoma che è deputato alla produzione della proteina spike S, ovviamente il virus si definisce variante. Perché? Perché varia nel suo atteggiamento e quindi nel caso della variante inglese, brasiliana e sudafricana, perché ci possono essere anche varianti innocue, anzi, noi ci auguriamo che prima o poi ci saranno delle varianti che siano meno patogene. Invece queste tre varianti, che sono presenti purtroppo sul territorio nazionale e anche nostro abruzzese, cosa fanno? Hanno una maggiore infettività, quindi tendono a circolare di più. Ecco il problema delle varianti. Inoltre sembra che siano in grado di eludere il sistema di immunosorveglianza, soprattutto nei soggetti vaccinati. Quindi, diciamo, se girano queste varianti ci può essere il rischio anche per chi si sta vaccinando, che poi la finalità ultima è vaccinare il maggior numero di persone per creare una specie di immunità di greggio e per proteggere la collettività, oltre che se stessi.